Musica Diventato l'appuntamento culturale più atteso e conosciuto dell'estate porto-recanatese, anche quest'anno il premio La Ginestra ha fatto il pienone in termini di presenze, in un'edizione che si presentava anzitutto con una novità, il cambio di location. Per la prima volta dalla sua fondazione, il premio Leopardiano, promosso dal Centro Studi Porto-recanatesi e dall'omonima associazione, con il patrocinio della Regione Marche e del Comune di Porto-recanati, nonché la collaborazione dell'UMPI e delle Proloco delle Marche, è stato ospitato in una sede lontana dal centro, causa l'indisponibilità dei giardini Lucangeli. La scelta è caduta su una location che è stata molto gradita dal pubblico, oltre 200 le presenze, e che si è mostrata particolarmente adatta alla cerimonia, la bazia di Santa Maria in Potenza. Un sito di rara bellezza, che anche se distante dal centro, grazie al servizio di Busnavetta allestito dall'organizzazione, ha permesso a tutti di partecipare all'evento. Il premio La Ginestra, giunto al suo dodicesimo anno, è un'ideazione della sezione leopardiana del Centro Studi Porto-recanatesi, che vede in prima linea l'impegno del professor Perfetti, la passione e la competenza dell'avvocato Carlo Trevisani, coordinatore del premio, la verve e la cultura del professor Alessandro Meluzzi, con l'imprinting dell'avvocato Salvatore Piscitelli. Una serata che quest'anno ha coinciso con la data della prima scossa di terremoto che nel 2016 ha colpito gran parte della regione e che l'organizzazione ha voluto ricordare con un'iniziativa concreta a sostegno delle popolazioni colpite. Certamente noi abbiamo deciso proprio questa sera di intitolare questo premio dato al professor Giulio Sapelli alle zone colpite duramente dal terremoto l'anno scorso. Sono presenti qui anche i rappresentanti delle prologo, delle città, di alcune delle città che sono state colpite dal terremoto, che ringrazio per aver animato anche questa serata. E devo dire sì che ci vuole comunque speranza, ci vuole forza, c'è bisogno che anche tutti coloro che fanno parte delle istituzioni siano pronti a dare una risposta a quelle che sono le esigenze di tanti che sono rimasti senza casa, senza lavoro. Ecco, noi abbiamo voluto dedicare questa serata anche a loro nella speranza che presto ci sia la possibilità di ritornare a quello che erano questi luoghi, luoghi bellissimi, pieni di storia, di lavoro manuale, di artigianato, di bellezze naturali e architettoniche. Noi speriamo che da qui in poi si parta per un rilancio di queste zone dell'interno maceratese, di cui tutti hanno bisogno, soprattutto le Marche, la Regione Marche, perché sono zone che comunque danno sicuramente la possibilità alla Regione di esprimersi in tutte le sue eccellenze. Nel corso della sua storia, il premio La Ginestra ha portato nella cittadina rivierasca importanti personalità della cultura, dell'arte e della scienza, della società, nazionali ed internazionali. Parliamo di Magdi Cristiano Allam, Federico Moccia, Antonio Ricci, Roberto Bertolaso, Lino Palanca e Franco Foschi alla memoria, Marco Antonio Trevisani, Cecco Buonanotte, Daniela Dessi e Fabio Armiliato, Richard Dixon, Francesco Tombesi e da ultimo Monsignor Angelo Comastri. La serata, presentata da un'impeccabile Morena Francioni, ha visto anche gli intermezzi di una recitazione sempre suggestiva di Giuseppe Russo, impegnato nella lettura di alcuni tratti della lirica della Ginestra. Sterminatore vesevo, la qual null'altro allegra arbor né fiore, tuoi cespi solitari intorno spargi, odorata Ginestra, contenta dei deserti. Particolarmente edotto e curioso l'intervento di Donatella Donati, raffinata e profonda conoscitrice del poetare canatese, alla quale è stata consegnata da Salvatore Piscitelli la medaglia del Senato della Repubblica spettante al premio. Donatella Donati, il premio La Ginestra rappresenta uno di quegli appuntamenti a cui tutti vogliono assistere e i premiati ogni volta regalano delle emozioni e delle suggestioni importanti. Quest'anno, il professor Giulio Sapelli, un economista. Era ora che si passasse dalla lirica pura a cui l'aveva condannato una certa critica italiana e soprattutto quella di Benedetto Croce si passasse anche ad un aspetto più completo della personalità di Leopardi e che ci fosse un economista qui tra noi, non tanto a parlare di lui quanto a parlare di un argomento che avrebbe sicuramente interessato anche Giacomo che di economia, economia del suo tempo naturalmente essendo un appassionato lettore dell'enciclopedia francese era notevolmente informato. Poi Massimo Ciambotti prorettore dell'Università di Urbino e presidente del CESMA e Antonio Marziale presidente dell'Osservatorio sui Diritti dei Minori e garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Calabria. Che cosa accomuna il mondo della poesia della letteratura all'economia? Guardi, sono sociologo le do una risposta sociologica che rifugge dalla poesia e si rifugia nel pragmatismo. Oggi per un economista descrivere la società è qualcosa di veramente tortuoso, di difficile siamo nell'era in cui l'economia soffre sta disegnando un nuovo ordine mondiale per un sociologo è estremamente importante quello che scrive un economista perché noi ci muoviamo in base alla costituzione di un paese all'economia di un paese e alla storia di un paese questi sono i tre nuclei fondanti della nostra ricerca per conoscere la società e perché scrive bene perché scrive Giulio Sapelli in un modo intelligibile perché parla di economia sotto forma di poesia mi si è concessa questa ricaduta anche Leopardi era un gran pessimista e Giulio non è che sia un ottimista di natura io mi freggio di essere un suo amico personale dietro le quinte e non è che è sempre bella la poesia di Giulio però è bella però è bella perché ti aiuta questa la dico con diciamo le chiavi del mestiere con l'attrezzo del mestiere ti aiuta a comprendere bene e meglio quello che sta accadendo come dovrebbero fare per esempio i giornali e come non lo fanno purtroppo anche quelli iper specializzati perché parlano un linguaggio troppo tecnico e allora non alla portata della massa io credo che ognuno abbia il diritto in questo momento di sapere verso dove stiamo andando quantomeno nessuno ha la verità neanche Sapelli ma quantomeno prefigurare delle uscite delle vie di uscita perché in questo momento credo che il problema dell'opinione pubblica sia proprio questo vedere una via di uscita nell'edizione 2017 il premio è stato assegnato all'economista Giulio Sapelli docente universitario ha insegnato nelle università di tutto il mondo ad eccezione della Cina autore di oltre 400 pubblicazioni attivamente impegnato nel mondo delle attività produttive finanziarie e istituzionali con incarichi di alto prestigio ma soprattutto un uomo di profonda cultura dagli ampi orizzonti che spaziano dalla storia alla filosofia alla sociologia con una particolare preferenza per la letteratura e i libri lei quanti libri possiede? ma non lo so ho fatto un trasloco ne ho regalati 10.000 alla mia parrocchia poi ne ho dati 30.000 all'associazione nazionale banche popolari di cui io sono advisor e me ne sono tenuti una una 15.000 16.000 naturalmente c'è anche molto Leopardi c'è tutto Leopardi c'è l'opera completa quella di Le Mounier poi ci sono c'è l'edizione americana anche eh eh sì c'è Leopardi certo e c'è Dante che è l'altra mia grande passione la motivazione del conferimento al professor Giulio Sapelli del premio La Ginestra è per la consonanza del suo pensiero con i principi fondamentali di verità e di fratellanza universale affermati da Giacomo Leopardi nel canto La Ginestra e il professore nel ricevere il premio cita Goethe dicendo che viene dal cuore ciò che colpisce il cuore il premio arriva inaspettato naturalmente è una grande sorpresa io sono un uomo molto vecchio e quindi e però ho sempre avuto vabbè c'è il fatto che ho avuto sempre una passione leopardiana e quindi anche nelle mie opere che non sono uno studioso di letteratura ma di storia economica o di economia beh spesso ho fatto delle citazioni leopardiane ho ho condiviso molto della filosofia leopardiana perché io vedo in Leopardi anche il filosofo che riscatta l'Italia da una decadenza che era durata due secoli noi non avevamo più una presenza filosofica Leopardi è stato poi riscoperto assai dopo ma non era solo un poeta ma è stato un grande pensatore e quindi mi giunge come una consonanza delle note del mio spirito e sono molto contento sono stupefatto e sono che nonostante il declino di questo paese dell'Europa ci sia ancora una comunità intellettuale come questa che ho trovato qui di persone che studiano che hanno amore per la cultura che organizzano un premio leopardiano alla Ginestra cioè è quasi un miracolo mezzo a questi scimioni che vanno nelle discoteche questi barbari che uccidono e si uccidono che ci sia ancora una civilizzazione come questa che ho trovato qui questa sera anche io sono un uomo senza speranza adesso un po' di speranza mi viene